In attesa della prima serata di QM Live con Gino Paoli e Danilo Rea a Morvegno, si sono scaldate le corde, le tastiere, tamburi ed altri oggettini musicali al teatro frassati di Cosio Valtellino ieri sera sul palco e su Utumana. E' stato certamente a nostro avviso uno dei più bei concerti di questa stagione 2016. La musica di Francesco Andreotti e Nadir Giori che si miscela in modo equilibrato il narrativo e i testi, un ottimo uso della voce da parte di Gian Battista Galli, una interpretazione oltre che musicale anche teatrale di Angelo Galli detto Pici, un buon supporto delle percussioni di Marco Castiglioni e il bravissimo chitarrista Beppe Pini, una qualità del suono impeccabile dovuta a un ottimo soundcheck prima dell'esibizione. Il teatro non era del tutto esaurito, anche se mancava una manciata di poltrone ad esserlo, ma di sicuro coloro che non sono venuti raffrassati ieri sera hanno perso un concerto di qualità, un ambiente quasi familiare, ironia, emozioni e tanto altro ancora. Su pochi di lati io ti vengo a svegliare, tu dove sei, tu figlia verso me, se mi aspetterai mi porterò il tempo donato, il cuore mareato, per i tuoi capelli, il tempo passato ha demolito, astretti, strappato martire, te non si saprò, la piera del fiume ha cancellato il mio alore, nessuno mi segue, nessuno mi vede, nessuno mi segue, nessuno mi vede, ho sento l'odore della pioggia che sale. E tu, aspetta a me Tu poterò perdonare E tu, aspetta a me Ti porterò perdonare E tu, aspetta a me Ti porterò perdonare E tu, aspetta a me Giovanni Salici News Notizie tra le amiche Giovanni Salici News Notizie tra le amiche